Da casa Hokkaido vi presento una bellissima imitazione di anguillina, la hotk hill. Insieme allo shad è la forma più utilizzata per la pesca in mare con esche siliconiche, soprattutto per inserire la spicola e non solo. Un'esca molto bella, un silicone veramente morbido, molto sinuoso in acqua, una forma classica conica. Possiamo anche questa, a seconda delle esigenze, innescarla in vari modi, in questo caso è innescata con una testina Texas per evitare rincagli e scegliere anche la relativa grammatura, ovviamente in base alla velocità di caduta che vogliamo dargli, al movimento, alla distanza di lancio che dobbiamo raggiungere o alla profondità dell'acqua. È prodotta in un'unica misura di 14 centimetri, ma volendo possiamo facilmente, a nostro piacimento, ridurre la lunghezza dell'esca, magari visto che andiamo a insediare i predi più piccoli o vogliamo imitare magari una cecchettina più piccola. Possiamo tranquillamente tagliarla prima del nostro innesco. Ovviamente possiamo scegliere, questo è il classico pearl white bianco che va sempre, possiamo anche optare per una colorazione in caso di acqua chiara, pesca diurna, molto più naturale come questa, più trasparente, oppure andare più sullo strong e scegliere una colorazione più contrastante, più scura come il black. In ogni caso è un'esca che vi dà soddisfazione.